Anche le guide turistiche scendono in piazza per rivendicare uno status adeguato. L'Associazione Nazionale è scesa sul piede di guerra quando sembrava che il Ministro Franceschini fosse sul punto di firmare un protocollo d'intesa con le Regioni, che avrebbe permesso a chi si formava presso enti privati di diventare guida turistica. Un affronto per la NGT che rivendica l'importanza del proprio lavoro e chiede a gran voce una legge nazionale che regolamenti l'accesso alla professione. Intanto Franceschini si è preso una pausa di riflessione riguardo l'opportunità di firmare il protocollo. Era un protocollo d'intesa che avrebbe diciamo normato la professione di guida turistica in maniera appunto non precisa, non pregnante perché sarebbe stato un semplice protocollo d'intesa, quindi non una legge votata dal Parlamento. Noi di Roma ma anche tutte le colleghe che afferiscono all'Associazione Nazionale, a NGT, noi vorremmo invece che venisse votata una legge dal Parlamento, quindi non un'intesa al di fuori del Parlamento, una legge nazionale, una legge uguale per tutti. Diciamo che il nostro massimo desiderio sarebbe che venissero istituiti dei corsi universitari con una laurea di secondo livello e dopo, quindi i candidati dopo aver conseguito la laurea, possano poter conseguire un esame che deve essere uguale per tutti, magari anche bandito dalle regioni ma uguale per tutti. Per un paese che dovrebbe considerare il turismo la sua miniera d'oro è paradossale lasciare che l'accesso ad un settore così strategico non sia regolamentato come si deve.